Pastificio Setaro, la natura dona i suoi frutti, Setaro crea la pasta. Il colpo di testa di Amoruso ed il pareggio del Savoia. Il minuto è il ventottesimo, il pareggio del numero due Amoruso. Barriera folta, quella predisposta da Cocchiarella, sempre attento nel corso di questo match. Va Barbera con il destro, rete! Un gol straordinario di Barbera. Mondragone 1, Savoia 2, perla di Barbera su calcio di punizione. Ora Nacci per il Mondragone. Tutti in avanti gli uomini in maglia granata con il nuovo entrato, il numero 18, Cifani, che va a siglare incredibilmente il pareggio del Mondragone a tempo scaduto.